Bentrovati nel salotto di Noi Media Network. Protagonista della chiacchierata odierna è la discarica di cemento amianto di Ferrera Erbonione. E ne parliamo con la nostra ospite, quindi benvenuta, Sabarina Tasterello, del Comitato No Discarica. Portavoce del Comitato. La discarica, ricordiamo, è già stata approvata da Regione Lombardia, ma quali sono le principali criticità che voi sollevate contro questo specifico progetto? Allora, le criticità di questa discarica sono innumerevoli. Innanzitutto l'ubicazione, perché è prospicente a una delle più grandi raffinerie d'Europa e in particolar modo a una trentina di metri proprio dal deposito dei carburanti. Nelle vicinanze vi sono altre industrie molto impattanti, anche abbastanza pericolose, come l'Air Liquide, come la Oxon, l'Enipower, c'è la TIRSI che produce i fanghi, sempre dello stesso proprietario della discarica. Abbiamo la CR, che è un'altra ditta che riceve rifiuti pericolosi, c'è già stato un incendio con dei morti. Insomma, la zona non è delle migliori. E quindi noi riteniamo che la posizione di questa discarica, la decisione di allocarla qui sia una decisione veramente superficiale, anche perché è in un contesto di risaie che sono tutelate dalle leggi della Comunità Europea. Per cui la nostra Lomellina è una delle zone più vocate a questo tipo di produzione. La provincia di Pavia è la provincia che ha la maggior produzione a livello europeo di riso. Quindi il terreno è prezioso in Lomellina. C'è anche forse un problema del traffico, del traffico pesante, che potrebbe generarsi attorno a questo sito di discarica. Quello è un grosso problema perché questi camion pieni di Eternit che arrivano da tutta Italia, in teoria avrebbero dovuto uscire ai caselli di Casei Gerola e di Voghera e attraversare il ponte della Gerola e poi venire in discarica. Il ponte della Gerola rimarrà chiuso per sempre, definitivamente, ai mezzi pesanti fino a che non lo rifaranno. Quindi tutto il traffico, diciamo, dei mezzi arriverà ad attraversare i vari paesi vicini. Quindi Pieve del Cairo, Gagliavola, entrerà in Ferrera, Scaldasole e poi tutta la serie Pieve Albignola, Zinasco, Sairano. Quindi entra dentro, all'interno di questi paesi. E sono camion carichi di avianto che possono avere anche delle particelle che portano in giro dai cantieri alla discarica. Certo. Queste sono appunto alcune delle criticità. Però, come noto, la Regione ha approvato già il progetto. Voi, come comitati, nutrite delle speranze perché possa venire bloccata oppure, secondo voi, la battaglia per non farla insediare è già persa? La scelta di Regione Lombardia è stata una scelta per noi scellerata perché è in una zona dove si possono verificare degli incidenti importanti come ci sono stati già nel 2016 a luglio e quello del primo dicembre, lì alla raffineria. Ma volevo ricordare anche un incidente devastante che ha colpito la raffineria di Milazzo e che ha avuto luogo proprio nel deposito, che nel nostro caso è a 30 metri. Quindi sono incidenti che si possono verificare anche con una certa frequenza. Queste le ragioni del no dei comitati che sono sempre, siete sempre molto attivi. E so che a breve avrete due nuovi appuntamenti che coinvolgeranno la cittadinanza. Sì, il 14 di gennaio ci sarà questa conferenza dell'Osservatorio Nazionale Amianto che viene fatta proprio a San Nazaro in vista di queste problematiche locali e ci sarà la presenza anche di esperti e di persone che hanno portato le nostre istanze a livello anche politico, parlamentare o regionale. Il 21 invece è una manifestazione che viene organizzata proprio dal comitato con l'aiuto della compagnia teatrale di Marco Oliva di Retorbido che si chiama Oltre un Po' che ha creato questo spettacolo proprio tagliato su misura sulle nostre problematiche che riguardano sia quindi l'inquinamento, il problema della discarica dell'amianto e anche il problema dei fanghi. Bene, questi quindi i prossimi due appuntamenti. Chiudiamo con un appello, se vuole fare, dei comitati finale. Perché no a questa discarica? Beh, intanto è esageratamente grossa. È una discarica di 770.000 tonnellate di amianto di cui solamente il 25% sarà amianto della Lombardia per cui il resto arriverà da ogni parte d'Italia o magari anche dall'estero. Queste le motivazioni del no portate dai comitati del territorio quindi noi ringraziamo Sabrina per la sua disponibilità. Grazie a voi. E per averci aggiornato sulle prossime iniziative noi continueremo a seguire l'evoluzione di questa tematica così come tanti altri temi caldi in materia di ambiente del nostro territorio. Per ora è tutto. Luca Drisaldi, Noi Media Network.